Vaccini introvabili nelle farmacie, siamo ad ottobre, dottor Zenobi, è una situazione difficile e complicata. Ai vostri clienti siete costretti a dire che il vaccino non c'è? Sì, la situazione è sicuramente complessa. I vaccini arrivano sul territorio attraverso due vie. Gare che fanno le ASL per i medici in generale, i pediatri di libera scelta e qualcosa è arrivato, ma servono fondamentalmente per i pazienti over 65 anni e i soggetti a rischio, ma per tutti gli altri soggetti che si volessero vaccinare, quindi fuori dal soggetto attivo che vuole vaccinarsi per essere più tranquillo e più sicuro, sul territorio vaccini allo stato attuale non ci sono, perché chiaramente quelli vengono distribuiti attraverso altri canali. Esiste un provvedimento, un progetto da parte della protezione civile per importare una dose di vaccini, un quantitativo di vaccini proprio a questo tipo di impieghi, quindi per le farmacie territoriali. Allo stato attuale però non sappiamo ancora in che quantitativo né quando arriveranno. La situazione che potrebbe cambiare, migliorare nelle prossime settimane c'è questa speranza? In funzione di questo ordinativo, poi dipende, se sarà un milione di pezzi, un milione e mezzo di pezzi, una cosa, se sarà meno saranno sempre pochi. Le farmacie prese d'assalto, tantissimi clienti chiedono il vaccino, voi non sapete come rispondere? Ovviamente le richieste sono tante, questo è evidente, anche perché c'è stata una campagna pro vaccino, di vaccinazione, che serve anche a fare un minimo di screening differenziale rispetto all'eventuale infezione da Covid. Allo stato attuale però, ripeto, purtroppo la disponibilità non c'è. Per quelle persone che devono essere vaccinate, perché per legge, per gli over 65, le persone malate, i vaccini bene o male arriveranno, ma gli altri rischiano di rimanerne senza? Ma gli altri allo stato attuale, per gli altri allo stato attuale non ci sono, la realtà è questa. Se non arriva questa fornitura da parte di protezione civile, noi non riusciamo a reperirli.